Ciao a tutti, 3 mila e comunque un video al benvenuto al nuovo episodio di Super Frida. Frida è appena tornata dal lavoro, con un vestito orribile ma vabbè mette sempre questo per andarci. Essendo appena tornata dal lavoro, ha anche ricevuto una promozione, è a livello 10 della carriera di ambientalista, responsabile ambientale e quindi adesso può lasciare questa carriera. Abbiamo completato questa carriera. Vai mamma, dimmi che è andato tutto bene, dice Melania. Sì tesoro. E va ad abbracciarla. Anzi facciamo che Melania abbraccia mamma. Per cui abbraccia affettuosamente, poi voleva anche usare un'interazione buffa, per cui magari le racconterà una barzelletta tipo fai la scema perché è contenta. È contenta che la sua mamma finalmente è riuscita a raggiungere il livello 10 della sua carriera. Che carine. Quindi adesso Frida può abbandonare questa carriera e dedicarsi ad altro anche perché nel frattempo avevo in mente magari di mandarle a fare una vacanzina con l'obiettivo di raccogliere erbe in un posto speciale perché abbiamo la serra pronta. Eh sì. E quindi più tardi vedremo la serra tra poco. Però adesso si eserciterà nella magia pratica e Melania può tornare a giocare con Antonio che è venuto qua a trovare la famiglia Erde. Uh salve. È incinta Rieco. Vabbè e Giulia nel frattempo è qua che legge un libro ad Aidan per la sua aspirazione. Leggi con un adulto per due ore. E sì insomma tutto procede al meglio per cui Melania torna a far compagnia. Uh abbiamo anche Chiara Stella. Chiara Stella che sta aspettando o meglio i suoi genitori stanno aspettando per lei un fratellino o sorellina. Vedremo che cos'è. Per cui chiama da te il gruppo e dopodiché condividi l'entusiasmo per... no. Per Frida si può? No non si può per la propria madre. Vabbè vieni qua magari andiamo a giocare. A giocare nella nuova cameretta perché ho sistemato un po' anche la casa e se vi ricordate vabbè la camera era molto più piccola. Qua ho aggiunto un bagno per i ragazzi e sopra ho creato la stanza vera e propria. Qua ci sono le scrivanie per studiare e sopra ho creato questa stanza per loro. E poi vabbè se hanno bisogno gli altri giocattoli basta acquistarli. Per cui gioca con le bambole con Chiara Stella e basta con Antonio non si può. Vabbè vai con Chiara Stella. E nel frattempo la nostra Frida si eserciterà un po'. E Melania ha raggiunto il livello 10 di creatività. Per cui anche con questa aspirazione ha quasi finito. Deve solo disegnare immagini e suonare strumenti. Dimenticavo di dirvi che lei ha anche lasciato gli scout perché tanto è già arrivata a livello massimo. Quindi ha già preso il tratto speciale per l'attività extra scolastica di scout. Quindi voglio lasciarli più tempo libero per stare con i suoi amici. Frida e Julian ne approfittano per andare nel regno magico quando i figli dormono. Giulia non so chi stai salutando ma chiunque sia non è lì. Non è lì. E dove è andata? Spoiler! Beh neanche tanto spoiler. Cioè lo sapevamo già. A parte che come sei vestita non ne ho idea Sansa. Però eccola qua col suo pancino. Non vedo l'ora che nasca. Va bene. Cerchiamo quella megera. Eccola qua. Che non è più tanto una megera. Ho rifatto anzi il look ai saggi. E l'ho rifatto pesantemente a lei. Adesso perfino Silver's Wither è carino. Complimentati per l'aspetto della serie. Uh! Hai fatto miracoli. Che magia hai usato. Era allegra. Mentre Frida sta andando a salutare Silver's Wither. E vabbè Morgan è qua. Gli ho solo rifatto il trucco alla fine. Nulla di che. E Silver's Wither è qua. Adesso è addirittura un bell'uomo. Forse è bello o no. Ma guardabile di sicuro. Per cui chiacchieriamo con lui. E Julian va da appunto El Faba. Parla di erboristeria. Ciao volevo chiederti. Non è che avete qualche pianta qua da qualche parte? Anche selvatica da raccogliere. Sai stiamo cercando di costruire una serra. Ma certo che ce l'abbiamo. Cosa pensi? Ah comunque è venuta qua una tua certa amichetta. Di infanzia. Ah sì? E chi? Ma Juliet ovviamente. Non sapevo che si fosse tolta quella maschera da vecchia bacucca. E fosse tornata al suo antico vero splendore. È una gran bella ragazza no? Sì sì va bene va bene. Ma senti a me interessa più che altro prendere le piante e chiederti se riesci a insegnarmi qualcosina. Ma dipende da te. Lo sai che non faccio nulla per nulla. Raggio di sole. Vabbè sì grazie. Adesso non è che sei diventata più carina e te la tiri di punto in bianco. Non è così che funziona. Complimentati per l'abito. Beh comunque sei sempre più elegante. Anche quella magia qualsiasi sia stata ti dona tantissimo. Ma sei veramente cambiata o hai davvero un faccino più carino? Ah spiritoso. Adula. Perché ho capito che dobbiamo adularla questa vecchia megera. Aspetta dove credi di andare? Vabbè chiedi della sua giornata. Spettegola. Fai un'imitazione. Impara a conoscere. Mentre lei con Silver's Wither sta andando benissimo. Anche troppo. Per cui io direi che... Vabbè Frida e Paracula lo sappiamo tutti. Chiedi di insegnare magia pratica. Lei approfitta delle ore delle sue notti insonni per andare appunto a esercitarsi. Stanotte Julian è venuto con lei. Sei sicuro che non puoi condividere la tua conoscenza con noi? Condividi la conoscenza dell'astronomia. Vedi noi condividiamo la nostra conoscenza con te. Fabali è genio. Non si direbbe. Ma senti Julian. Cerchiamo di non farcela fuggire. Chi è? Boh. Chiunque sia comunque vestita bene. Cioè giusta. Racconta una storia convolgente. Vai in visibilio per i tuoi cantanti preferiti. Non so cosa possa fregargliene a lei. Però forse adesso... Se le chiediamo magia maliziosa forse è disposta a condividere qualche sua conoscenza. Dov'è andato quel farabutto? Mamma mia. Frida dove sei? Oh. Sì? Dove state andando? Ah ad ammirare le stelle. E vai c'è Frida. Sì c'è sempre Frida. C'è spesso. Julian ha scoperto l'incantesimo delirio. Vediamo. Delirio. Infiltrati nella testa di un sim e confondigli le idee. Perfetto. Noi quanto abbiamo imparato con lui a proposito? Quasi nulla. Uno di sette, uno di otto e gli altri siamo a zero. Benissimo Julian. Farai strada. Dato che ci siamo chiediamo anche di insegnare la ricetta di una pozione. e poi magari andiamo a esercitarci con delirio. Vediamo chi possiamo prendere di mira. Qua c'è un dormiente. Salve. Salve. Sveglia. Pozione della buona sorte. Oh. Alchimia. Trovare oggetti utili durante lo svolgimento delle attività quotidiane. Oh. Benissimo. Perfetto. Lascia stare le chiacchiere e vieni a far delirare questo. Frida nel frattempo sta socializzando con lui. Vediamo se adesso è incline a insegnarci magia pratica. Magia e ricetta di una pozione. Ah. Prima di tutto. Cambiamo aspirazione di nuovo. Conoscenza. incantamento e stregoneria. Dobbiamo raggiungere il rango 2 di lancio di incantesimi. Già qualità. Svegliati. Senti, tizio. Vorrei provare una cosa. Che cosa? Io stavo dormendo così bene. Presentazione allegra. Ma nulla di che, sai, mi è stata appena insegnata una cosa da faba. Da faba? Ma è la mia insegnante, faba. È bravissima. Ah, certo, certo. E quindi ti va di farmi provare su di te solo giusto così, eh? Ma sì, qualsiasi cosa ti ha insegnato sicuramente ne vale la pena. Poveraccio. Magia, incantesimi, delirio. Vai. Facciamo delirare il poveretto. Sì, sembra un po' stordito, in effetti. Vabbè, ok, perfetto. Allora, Julian può ritenersi soddisfatto. Vai a casa. Invece io starò qua con... Frida, dove sei? Io starò qua con Frida per magari cercare un po' di erbe e poi ci vediamo direttamente domani a questo punto nella serra, che è il pezzo forte in teoria di questo episodio. Allora, la pozione sì, l'incantesimo no. Eh, questo è un po' fuori di testa. Vero, Dream? Eh, sì, purtroppo sì. Perché mi fai queste facce, Frida? Mamma mia. Ed eccoci arrivati finalmente alla famosa serra. Adesso posso mostrarvela. Il club dell'arte delle pozioni si sta già radunando. Dove vai, Philip? Devi andare dall'altra, a dire il vero. Ecco... Ah! Pensavo... Da dietro sembrava nudo. Ho detto, cos'è? Oh, che infarti che mi fanno venire sti vestiti. Allora, questa è la serra. A dire il vero è un parco come tipo di lotto, però Frida appena... Ha indetto un raduno per mostrare i lavori finiti. Finiti più o meno, perché qua mi sono accorta che mi sono dimenticata di pitturare. Ma vabbè, lo facciamo subito. Prima che mi entrino ospiti indesiderati, io vorrei bloccare le porte per i club. In modo che possano entrare solo i club. Sì, facciamo tutto pietra. Perfetto. Per cui, prima che entri qualcuno, chi è? Oh, una piccola miratrice. Blocca la porta per tutti tranne i membri del club. E stessa cosa qua. Blocca la porta per tutti, tranne i membri del club, l'arte della difesa magica. Allora, è una normalissima serra, diciamo, con una parte nascosta centrale. Una parte dove i nostri stregoni possono tranquillamente sperimentare quello che hanno appena raccolto. E c'è anche un'altra parte segreta, che è di sotto, abbastanza incompleta. Però ci sono delle camere. Qua ho messo delle cose che mi servivano per completare il tipo di lotto. Qua c'è un bel bagno. E ovviamente nessuno ci può entrare, tranne loro. Poi vabbè, la parte esterna, chiaramente, possono usarla tutti. Però la parte interna, no. Perfetto, i paparazzi ci volevano. Ma vabbè, noi ce ne freghiamo. La nostra Frida, quando era nel regno della magia, si è beccata un incantesimo. Perché ha perso due volte uno scontro. Era uno scontro amichevole, per cui normalissimo. E quindi si è presa la maledizione dell'ostilità immotivata. Per qualche motivo tutti vogliono essere perfidi e attaccare briga con te. Perfetto. Non c'è problema, volevo solo mostrarvela. In realtà posso toglierla quando voglio perché, se clicco su quello giusto, c'è la pozione. Cioè non ci serve nemmeno impararla. Per cui prendiamola. Questo è anche troppo facile, eh ragazzi. Per cui bevi. Cos'è? Purificazione, giusto? Prodotto da Emporio e dei Dottori Discutibili. Vabbè, sì. Toglierà tutte le maledizioni. Non ho capito perché tutte. Cioè, se ne può avere più di una al momento? Vabbè. È abbastanza inquietante come cosa. Basta, basta parlare. Parli dopo con i tuoi amici. Oh, Frida. Sì, l'MC Command Center mi ha cambiato ancora il cognome. Viene soprafatta da un'intensa forza magica mentre il suo corpo si svuota di energia negativa. Frida è riuscita a rimuovere tutte le maledizioni. Molto bene. Sì, qua cominciano a diventare un po' troppo insistenti. Per cui io direi di andare a fare quello che tutti, insomma, tutti i maghi vanno, fanno. Per cui riempiamo le ciotole prima di tutto. Perché è la prima cosa più importante in assoluto da fare. Riempi. E... Ah, tu sei zotto. Vabbè, ci pensa Frida. Non preoccuparti che ci pensa Frida. Chiamiamo i famigli. Per cui facciamoci raggiungere qua. Perfetto. Vabbè. E Frida adesso cercherà di pulire Julian. Incantesimo. Strofinamento. Fammi vedere che brava che sei diventata. Oh, che è successo? Oh, nulla è successo. Che sei più pulito. Frida nel frattempo anche... È arrivata a livello di accolita. E... Le ho acquistato. Sperimentatore. Azzara il livello della carica. E sapere è magia. Però per svuotare il livello della carica non ho capito se devo cliccare su di lei. Azzara il livello della carica, sì. Devo cliccare su di lei. Perché non capivo se era una cosa automatica. Ah, scarica terra, praticamente. Va bene. Te non dici niente? Merda. Vabbè. Fa niente. Fa niente. Andiamo a fare quello che farebbe il club. Cioè piantare. Per cui cominciamo. No, questo è un limone e lo pianto fuori. Non esattamente lì, ma... Ecco, questo in teoria sarebbe il luogo adibito agli alberi. E poi, vabbè, auguri. E vabbè, come avrete potuto capire, lo scopo di questa serra è di raccogliere quante più piante possibili. Farò in modo che piantino tutte le piante esistenti nel mondo simmico e, appunto, tutti i tipi di pianta. Dovrebbe esserci qualcosa anche a casa delle sorelle Morgan. Dobbiamo tornare a Selva Dorada per le bacche. L'avocado e i fagioli neri. Uh, i bambini sono tornati da scuola. Ma soprattutto dobbiamo andare a Granite Falls a vedere se riusciamo a prendere le erbe che ci mancano. Che sinceramente ho perso il conto di quali siano. Dovrò andare a vedermi una guida. Ma, vabbè. Quindi, basta, le piante sono a posto perché qua... Uh, stanno già piantando loro. Perfetto, bravissimi. Mi sa che lui sta andando... No, sta andando di sotto. Perfetto, quindi... Tu prepara la pozione. O se no, esercitati, sperimenta e basta. Fa niente. E, vabbè, questo è un mini raduno del club giusto per... Portiamo qua i bambini. Per avviare questa serra. Adesso non so se piantare altro o meno. Che ha? Ah, le stelline in faccia. Ok, perché è un'incantatrice. E avevo intenzione di far andare la nostra famiglia, appunto, in vacanza. Una bella vacanza estiva, prima che finisca l'estate. E vedere se riusciamo a trovare altre piante e magari a completare anche l'aspirazione legata a Granite Falls. Dusty non ci interessa. Comunque, alla fine, il nostro caro amico... Che è successo? Il nostro caro amico... Silver's Weather, non riuscirò mai a dirlo. Non ce l'ha mica insegnata la magia pratica, eh. Non c'è stato nulla da fare. Già è caldo, se poi devo fare sta roba. È frida. Un po' bisogna soffrire, no? Per cui io direi che ci vediamo a questo punto in vacanza. Partiranno questa sera. Nuovo assolutamente a farvi vedere questi due. Guardateli. Ho anche pubblicato le loro foto su Instagram. Chiedendovi chi fossero. Guardate questo bel bambino. E guardate questa bella bambina. Lei, secondo me, ha tratti somatici riconoscibilissimi. Comunque sono... Uno è Giulio, Morgan, figlio di Abby, è uno dei due gemelli. E lei è Beatrice McGovern, la figlia di Connie. Sono troppo belli questi bambini. Sono cresciuti e Aidan, in teoria, dovrebbe venire a conoscerli. Perché saranno i suoi amici. Per cui presentazione amichevole e presentazione amichevole. Per cui, chiusa parentesi, non ci interessa, Zoe. Ed eccoci pronti per iniziare la nostra vacanza a Granite Falls. Speriamo di avere fortuna con le piante. Però, per evitare disastri, io farei intanto due giorni. Ho modificato questo lotto per andare incontro alle esigenze dei nostri. Costa mille al giorno, ma non ce ne frega nulla. Ok, ci stiamo intanto due giorni. E soprattutto anche un'altra cosa. Ed è la cosa più stupida in assoluto. Frida, tra le altre cose, dovrebbe dormire in una tenda per cinque notti. Ora, lei non dorme tutta la notte. Perché, appunto, è instancabile. Ed è il motivo per cui non riesco nemmeno a terminare l'aspirazione di Sulani. Quella di vita da spiaggia. Cioè, questa non riesco a farlo. Appisolati mentre ti rilassi sul lettino o sul lettino galleggiante. Perché lei non ha mai sonno. Per cui non si appisola. Per cui vi avevo chiesto se per voi potesse andare bene che eventualmente io potessi diciamo risolvere questo controsenso del gioco facendolo io. Perché per me lo ha fatto. Ha passato così tante ore su quel materassino del cavolo. Anzi, sui lettini o quello che è. Che per me è completata questa aspirazione. Per cui, se per voi va bene, io la completerei con l'MC Command Center. Poi l'altra cosa, appunto, natura dov'è? Qua, fanatica dell'aria aperta. Certo, vediamo di completare questa cosa. Identifica tutte le piante non identificate. Siamo a 7 di 10. E poi appunto dovrà dormire 5 notti in una tenda. Per cui, va bene. Ok. Perché? Nostalgia di casa. Oh, dai, tesoro, che ti divertirai. È un'estate bella qua a Granite Falls. Hai svernato a Sulani. Ma cosa vuoi di più, Frida? Cosa vuoi di più? Bene, allora. Sì, non è che è cambiata molto questa casa, eh. Però, vabbè, ho aggiunto un po' di comfort. Ho messo le cose per i nostri famigli. Ho migliorato un po' di stanze. Ovviamente non poteva mancare il calderone. Calderone. Non riesco a parlare oggi, scusate. E basta. Tutto qua. Per cui, io direi che mi faccio questa cosa più che altro off camera. Per, appunto, completare questa aspirazione per Frida. E anche tu non sei già di casa. Ma dai. Ingrati. Vedrai che ti divertirai. Tesoro, strofino tua figlia. Per cui... Oh, dov'è? Beh, magia non la posso fare? Interessante. Anche se è magia buona. No, vabbè. Allora andrei a farti una doccia. Fai la doccia. Quindi io farò questa cosa più che altro off camera. Per trovare le piante mancanti. Per non annoiarvi più che altro. E... Vabbè, lui andrà avanti con la magia. Ora Frida non si è portata dietro il libro. L'unico che lui poteva leggere, immagino. Infatti no. Però vabbè, ha del lavoro da terminare. Non andare ad accendere nulla, per carità Julian. Lui doveva andare avanti con questa cosa della carriera di freelancer. Doveva creare due pagine web. Per cui lui andrà avanti con questa cosa. Oh, lei è già ispirata. No, è fiduciosa. Mentre lui, boh, cerca di capire cosa si può fare qua. Non preoccuparti che... Troverai presto qualcosa con cui tenerti occupato. Per cui usa. Ovviamente qua non c'è nulla. Per cui dopo Frida prepara da mangiare. Anzi, prepara subito. Perché è l'ora di cena. Servi la cena. Facciamo formaggio grigliato. Piace ai bambini. Festeggiamo di essere qua. Per cui tu intanto vai a fare... Boh, lancio dei ferri di cavallo. Quindi tutti sono impegnati. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate della serra. Se avete consigli da darmi in merito o con qualsiasi altra cosa riguardante la magia. Dato che molti di voi saranno molto più avanti di me in questa cosa della magia. Per cui se avete consigli sempre molto ben accetti. Lasciateli pure. Mettete like se vi è piaciuto questo episodio. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire l'avventura della nostra reginetta tutta rosa. Fatemi sapere cosa ne pensate del makeover che ho fatto ai nostri saggi. E vi ricordo che nella descrizione del video trovate sempre tutti i link ai canali dei miei amici youtubers. Trovate i link ai social e alle playlist con tutti i miei gameplay. Non comincero a mangiare da sola Frida. Per cui grazie mille a tutti per la vostra attenzione. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Grazie a tutti!